Bene, cari ragazzi e cari ragazze di seconda, ecco la seconda parte che vi ho promesso sulla cinematica, il ripasso complessivo della parte di cinematica, visto che abbiamo chiuso l'argomento e iniziato la dinamica. Nella precedente parte ho fatto un brevissimo riassunto di quelle che sono le grandezze cinematiche principali, quindi posizione, velocità, accelerazione, la legge oraria generale nello spazio e poi abbiamo visto il caso particolare in cui l'accelerazione è costante, eventualmente anche nulla, e collineare alla velocità. Abbiamo visto che in quel caso si ottiene un moto rettilineo, che è uniforme se l'accelerazione è costantemente uguale a zero e uniformemente accelerato se l'accelerazione è costante ma diversa da zero. Vediamo oggi il caso, quello che succede quando l'accelerazione non è collineare alla velocità. Quindi parliamo di quelli che abbiamo definito moti piani, perché avvengono a questo punto non più su una retta ma su un piano e ipotizziamo quindi che in un certo istante il corpo si trovi in una posizione iniziale rispetto a una certa origine. quindi questa è la posizione iniziale, abbia una, facciamo un colore verde, abbia una certa velocità iniziale u0 e infine abbia anche un'accelerazione. L'accelerazione l'attacco qua ma insomma in realtà è un vettore indipendente dal punto in cui viene. Siccome però è la variazione della velocità, normalmente si tende a collegarla appunto alla velocità. Questi vettori sono appunto vettori, quindi è indipendente dove li disegno, l'unico è il vettore posizione che in qualche modo rappresenta la posizione fisica del corpo nello spazio rispetto all'origine. Quindi queste sono le condizioni. Allora vedete se a non è sulla stessa retta di v ma retta della velocità iniziale ma immaginiamo però che a sia costante quindi un moto comunque uniformemente accelerato. Allora in questo caso si dimostra che non solo il moto è piano quindi avviene sul piano che contiene v0 e a quindi questi due vettori sono contenuti su un piano e quindi il moto viene su questo piano ma si dimostra che il moto è di tipo parabolico cioè la traiettoria parabolico scusate quindi la traiettoria è una parabola questo è indipendentemente dalla natura dell'accelerazione quando l'accelerazione su un corpo è costante e non è allineata alla velocità iniziale il moto è sempre di tipo parabolico di solito noi abbiamo visto l'applicazione del moto parabolico dove l'accelerazione è l'accelerazione in gravità quindi in caso particolare siamo con un'accelerazione che indico di solito sempre il basso quindi ipotizzo che il foglio su cui sto disegnando rappresenti una vista laterale del terreno quindi questo è il terreno immaginiamo la terra ma potrebbe essere anche la luna qualunque corpo che genera un campo gravitazionale di accelerazione quindi questa sia l'accelerazione g questo sia il nostro corpo e abbiamo indicato con per esempio v0 la sua velocità iniziale allora la traiettoria di questo oggetto è di tipo parabolico cioè da un punto di vista anche analitico questa curva qua è una parabola la cosa si vede bene nel momento in cui scelgo un sistema di coordinate opportunamente scelto diciamo è chiaro che posso scegliere le coordinate del piano quindi mi servono due coordinate perché il moto è piano chiamiamole x e y le posso scegliere come e dove voglio normalmente conviene in qualche modo prendere l'asse y e l'asse x passanti per il punto di partenza in questo modo la posizione questa è quindi l'origine delle nostre coordinate in questo modo con questa scelta la posizione iniziale è 0 il vettore iniziale è quello nullo quindi coordinate x coordinate y sono 0 a questo punto possiamo se vi ricordate riscrivo qua l'equazione del moto uniformemente accelerato generica nello spazio che è un'equazione vettoriale che mi dice che la posizione nel tempo è data dal vettore posizione iniziale più la velocità iniziale per t più un mezzo a t quadro quindi questa è la generica legge oraria per un corpo che si muove con accelerazione costante abbiamo detto che se l'accelerazione non è costante questa è solo approssimativamente vera per t piccoli e a questa aggiungiamo già che ci siamo l'evoluzione della velocità che è la velocità iniziale più a per t allora in questo caso quindi possiamo scomporre la nostra equazione del moto la legge oraria sia per la posizione che poi per la velocità lungo gli assi x e y quindi quello che possiamo fare è il vettore velocità v0 lo possiamo scomporre in una componente iniziale chiamiamola v0x in una componente verticale che chiamo v0y queste componenti chiaramente queste proiezioni hanno un segno hanno una in questo caso sono vettori ma il loro valore nel sistema di coordinate sarà positivo in questo caso per entrambe perché la componente x punta verso destra la componente y verso l'alto ma è chiaro che a seconda del problema potrei avere una delle due componenti della velocità iniziale negativa o tutte e due negative o una delle due per esempio nulla nella prossima puntata farò un po' di esercizi tra cui anche esercizi sul moto parabolico allora scomponendo la velocità iniziale lungo queste componenti g non c'è bisogno di scomporlo perché l'accelerazione in questo caso appunto di gravità è già come dire allineata all'asse y però notate che ha un verso negativo quindi sarà negativa e a questo punto posso scrivere le componenti della posizione come x e y la x e la y del corpo saranno posizione iniziale con questa scelta delle coordinate è 0 quindi non c'è abbiamo detto che con questa scelta del sistema di assi cartesiani la posizione iniziale è nulla chiaramente in altri problemi potrei scegliere di posizionare inizialmente il corpo in un punto diverso allora chiaramente avrò una posizione iniziale diversa da 0 poi avrò la componente x per t e poi dovrei avere la componente dell'accelerazione per un mezzo t quadro lungo x ma vedete che in questo sistema di coordinate la componente dell'accelerazione lungo x è 0 quindi questa è la legge oraria lungo x che è come dire che la componente x segue un moto di tipo uniforme quindi se io potessi vedere l'ombra di questo oggetto sul terreno e quindi vedere l'evoluzione della componente x orizzontale dell'oggetto che si muove questo si muove a velocità costante per la y invece avremo v0 y per t e poi però abbiamo in questo caso il termine di accelerazione perché l'accelerazione non solo è diversa da 0 ma è tutta g lungo l'asse y però con il segno meno per l'asse che abbiamo scelto g è negativo e quindi questo è un moto uniformemente accelerato lungo y accelerato quindi in questo sistema di coordinate la nostra parabola è la composizione di un moto uniforme lungo x e di un moto uniformemente accelerato lungo y però è un caso abbiamo fatto un esercizio se vi ricordate in classe in cui abbiamo messo gli assi cartesiani inclinati e in un sistema di coordinate generico non allineato lungo g abbiamo una componente dell'accelerazione sia lungo x che lungo y quindi in realtà la parabola viene fuori come composizione di due moto uniformemente accelerati per quanto riguarda la velocità beh la velocità lungo x è la velocità iniziale e basta perché abbiamo detto che non c'è una componente dell'accelerazione gravitazionale orizzontale e la velocità lungo y è v0y meno ct con queste leggi ottengo tutto quello che c'è da sapere sulla traiettoria in particolare posso anche cosa che vado a fare ricavare proprio l'equazione della parabola cioè l'equazione della nostra traiettoria in termini dell'equazione che collega yx quindi basta eliminare il tempo t e ottenere la forma tra virgolette della traiettoria chiaramente facendo questo io non so perdo l'informazione su come viene percorsa la traiettoria conosco soltanto a quel punto la forma geometrica ma per esempio se sono interessato a conoscere il punto più alto raggiunto dalla traiettoria oppure se sono interessato a conoscere il punto di impatto con una qualunque retta per esempio con il terreno chiaramente questa è una retta nella forma y uguale sarà meno qualche cosa se ho fatto partire la pallina da un'altezza h questa sarà la retta y uguale a meno h e quindi basterà intersecare la parabola con la retta y uguale a meno h per ottenere il punto ok di atterraggio di questa traiettoria ovviamente stiamo facendo tutto questo discorso in assenza di altre forze c'è solo di altre accelerazioni scusate dinamica abbiamo appena cominciato c'è solo l'accelerazione di gravità quindi non ci sono altre accelerazioni dovute per esempio ad attrito con l'aria o cose di questo genere quindi è chiaro che il moto parabolico viene fuori solo in un caso ideale in cui l'unica accelerazione che agisce sul corpo è quella gravitazionale allora dicevamo possiamo trovare la forma della traiettoria ricavando dalla prima t che è x fratto v0x e sostituendola nella seconda quindi prendendo questo e questo otteniamo che y uguale a viene v0y fratto v0x per t meno un mezzo scusatemi non per t ovviamente per x meno un mezzo g questo al quadrato x quadro fratto v0x al quadrato possiamo scriverla anche un po' meglio questa diventa y uguale a x che moltiplica raccolgo una x quindi v0y fratto v0x meno uvg scriviamola così fratto 2 v0 al quadrato x per x e questa è chiaramente un'equazione di secondo grado in x e y che rappresenta una parabola notiamo che questa parabola interseca l'origine perché per x uguale a 0 tengo y uguale a 0 ma proprio perché per scelta ho ottenuto ho scelto di mettere l'origine nel punto di partenza l'altra eventuale soluzione di questa equazione di secondo questa non è un'equazione di secondo grado scusate è una relazione di secondo grado ma se mettessi y uguale a 0 troverei il punto di intersezione della parabola con l'asse dell'x che è questo che in questo caso per l'esempio che ho messo non è il punto di arrivo sul terreno lo è se il corpo parte dal terreno in questo caso partiva da una certa altezza e quindi in realtà il punto di arrivo sul terreno è il punto che ho disegnato qua in basso per trovare quel punto il punto di arrivo sul terreno basterà mettere a sistema questa che è l'equazione della parabola con questa che è l'equazione del terreno in questo caso particolare come sapete ne abbiamo già parlato in classe io non vi do formule da imparare a memoria per esempio sulla gittata cioè il punto più lontano raggiunto dalla traiettoria sul punto di altezza massima sulle velocità massime perché sono tutte grandezze che si ricavano di volta in volta a partire dalle leggi del moto quindi da queste equazioni qua ok a titolo a titolo di esempio a titolo di esempio il punto di altezza massima quando si raggiunge beh quando l'oggetto il corpo smette di avere un moto verticale verso l'alto e da quel punto in poi incomincerà il moto di caduta a cui si sovrappone però un moto costante di traslazione orizzontale quindi questo punto qui il punto chiamiamolo A il punto A si ottiene quando la velocità verticale si annulla perché da quel punto in poi la velocità in questo punto la velocità sarà solo orizzontale e sarà uguale a V0x la componente x della velocità e poi il corpo inizierà ad avere una velocità invece con una componente verso il basso quindi negativa quindi il punto in cui la velocità verticale si annulla è il punto massimo di altezza massima della mia traiettoria e questo si ottiene semplicemente usando questa relazione il tempo in cui raggiungo il punto di altezza massima è dato da V0y fratto g se voglio sapere la posizione di questo punto basterà inserire questo tempo che ho trovato all'interno delle due relazioni che mi danno x e y e trovo la posizione del punto A quindi altezza massima raggiunta eccetera eccetera bene questo per quanto riguarda il moto parabolico quindi moto molto importante su cui farò qualche esercizio un paio di esercizi nel prossimo video che probabilmente registrerò domani ma che da un punto di vista teorico è questo il moto è particolarmente semplice quando scelgo un sistema di coordinate in cui l'origine la posso mettere dove voglio quindi potrei riprodurre esattamente la discussione mettendo l'origine proprio esempio sul terreno ma la cosa importante è che l'asse dell'elipsi non sia verticale perché in questo modo il moto lungo x non ha accelerazioni ed è un moto uniforme quindi abbiamo la situazione più semplice va da sé che se il corpo v0 cioè la velocità v0 del corpo fosse verticale ritorniamo nel caso visto nel video precedente cioè se la velocità iniziale è collineare l'accelerazione non abbiamo più un moto parabolico ma abbiamo un moto rettilineo in questo caso uniformemente accelerato verso il basso ultima cosa che forse vale la pena dire perché è un punto su cui spesso giustamente e vi incartate un pochettino nello svolgimento se questo è l'angolo θ che la velocità iniziale fa con l'orizzontale modo veloce per calcolare le componenti della velocità la componente x sarà la velocità per il coseno di θ che è il coseno dell'angolo adiacente e la componente y sarà v0 sem θ ok questo tra l'altro ci dice essenzialmente è che in questa formula che abbiamo ottenuto questo primo termine non dipende questo qua non dipende dalla velocità ma dall'angolo ok quello che abbiamo chiamato l'alzo del tiro cioè più l'angolo è alto più questo termine effettivamente è alto invece il secondo termine è quello che compare qua al denominatore dell'accelerazione dipende anche dal modulo della velocità quindi è chiaro che il punto di impatto dipenderà sia dall'angolo che dal modulo della velocità iniziale bene direi che questo è tutto per quanto riguarda il moto parabolico quindi il moto parabolico si ha ogni qual volta abbiamo un moto a accelerazione costante attenzione non come modulo e basta proprio accelerazione come vettore sia costante e in cui l'accelerazione non è collineare quindi non giace sulla stessa retta della velocità iniziale in questo caso abbiamo sempre un moto parabolico in questo coordinato è la descrizione più semplice va bene il secondo caso di moto piano che abbiamo visto invece è un po' più complicato tant'è che vi ho già accennato vediamo soltanto abbiamo visto solo pochi dettagli però è importante perché è interessante ed è il caso in cui supponiamo che questa sia la nostra posizione iniziale rispetto sempre a un'origine immaginiamo che questa sia la velocità iniziale e immaginiamo che l'accelerazione sia perpendicolare per esempio in questo caso la metto così alla velocità ok e costante in modulo scusatemi ma sia costantemente perpendicolare alla velocità quindi sia costante in modulo e come direzione verso sia tale da avere un angolo di 90 gradi con la velocità quindi man mano che il corpo varia la sua velocità perché c'è un'accelerazione anche l'accelerazione cambia quindi per esempio il corpo avrà una traiettoria di questo tipo quando il corpo arriva qua la sua velocità sarà cambiata vedete la velocità non è più lo stesso vettore ma facciamo in modo richiediamo che l'accelerazione sia sempre perpendicolare e come valore il modulo dell'accelerazione è costante allora si può dimostrare che in questo caso avvengono due cose importanti la prima quindi fatemelo scrivere a perpendicolare alla velocità in ogni istante e poi a costante attenzione non come vettore ma in modulo allora con queste due condizioni avvengono due cose il primo la traiettoria è circolare la seconda cosa che possiamo dire è che il modulo della velocità togliamo lo zero questo è la velocità all'inizio ma la velocità risulta costante quindi la velocità cambia in direzione e quindi anche verso lo stesso ma cambia in direzione ma il suo modo rimane costante ok e in particolare si dimostra anche terzo fatto che l'accelerazione punta sempre verso un centro cioè esiste un punto che chiameremo centro della traiettoria che è appunto il centro verso il centro della traiettoria in cui punta l'accelerazione in questo caso quindi quello che si ottiene è un moto circolare uniforme quello che si chiama un moto circolare uniforme e l'accelerazione questo punto prende il nome di accelerazione centripeta perché punta sempre verso il centro quindi facendo un disegno vediamo se riesco a farlo un po' più preciso del solito ok questa supponiamo che questa sia la nostra traiettoria quello che succede è che se questo è il nostro punto il nostro oggetto immaginiamo che questa sia la velocità in un certo istante e questa sia l'accelerazione e vedete che l'accelerazione punta verso il centro a un istante successivo il corpo si trova per esempio qua la velocità è cambiata attenzione non in modulo il modulo è costante ma la direzione è cambiata quindi abbiamo un'accelerazione e l'accelerazione anche è cambiata perché punta di nuovo verso il centro quindi abbiamo un'accelerazione centripeta una velocità costante in modulo e che varia e il corpo compie una traiettoria circolare e questo uniforme significa che il modulo della velocità è costante in questo tipo di moto la velocità è in ogni punto come vedete tangente alla traiettoria quindi spesso questa velocità prende il nome di velocità tangenziale ed è la velocità che ha in quell'istante istantaneamente quella della velocità che il corpo ha poi a caso dell'accelerazione un istante dopo la velocità cambia e vedete che la velocità ruota in senso in questo caso è un antiorario abbiamo visto per andare verso la conclusione alcune relazioni importanti che vengono fuori se uno associa al movimento circolare in modo circolare anche un altro tipo di velocità che è la cosiddetta velocità angolare cioè se andiamo a indicare con questo angolo chiamiamolo delta teta quindi la variazione di angolo che il corpo fa rispetto a un asse stabilito abitualmente per esempio possiamo prendere questo diametro allora questo è l'angolo iniziale questo è l'angolo finale e quindi questo angolo qua che adesso evidenzio è delta teta allora definiamo la velocità angolare come la variazione dell'angolo sull'intervallo di tempo in maniera del tutto simile a quello che abbiamo fatto per la velocità facendo delta s su delta t questa si chiama velocità angolare per convenzione è positiva quando il corpo ruota in senso anti-orario come in questo caso è negativa quando ruota in senso orario per comodità ne abbiamo parlato a lungo in classe gli angoli devono essere misurati normalmente in gradienti quindi l'unità di misura di questa velocità angolare è radianti al secondo ok allora abbiamo visto che da questa discende anche una legge oraria per l'angolo bentanto altra cosa che viene fuori è che il fatto che il modulo della velocità sia costante anche la velocità angolare risulta costante nel tempo quindi una definizione diversa di moto circolare uniforme o moto circolare è un moto che avviene uniforme o moto che avviene su una circonferenza e che ha una velocità angolare costante nel tempo adesso vedremo tra un attimo la relazione tra velocità e velocità angolare la cosa importante è che da questa relazione abbiamo dedotto anche una legge oraria per l'angolo in particolare quindi θ l'angolo che il corpo fa con un asse di riferimento orientato che potrebbe essere per esempio questo orizzontale è l'angolo iniziale per esempio questo se questo è la θ0 più ωt in totale analogia alla legge oraria del moto rettilineo uniforme in cui la posizione è la posizione iniziale più v per t e questo è angolo uguale angolo iniziale più ω per t allora dicevamo che ci sono varie relazioni e vado a concludere il ripasso se indichiamo con r il raggio dell'orbita una prima relazione importante è che la velocità in modulo quindi se non segna il vettore vuol dire che questo è il modulo di v è ω per r si dimostra abbiamo anche intravisto una possibile dimostrazione e questo è molto importante perché ci dice che se v è costante anche ω è costante r chiaramente il raggio di una circonferenza è costante quindi questa è la prima relazione che ci permette di collegare tra loro velocità istantanea del corpo modulo della velocità istantanea del corpo e velocità angolare da questo abbiamo dedotto anche il periodo il periodo di un'orbita circolare uniforme di una traiettoria circolare uniforme è il tempo che il corpo impiega a fare una circonferenza completa e quindi possiamo scrivere tranquillamente come 2πr che è la lunghezza della circonferenza fratto v ma v è ω per r r si semplifica e viene fuori che il periodo come è giusto che sia 2π fratto ω perché posso anche interpretarlo il periodo andando a velocità angolare ω quant'è il tempo in cui il corpo la posizione del corpo fa un angolo giro che è 2π quindi 2π fratto ω questo è quello che appunto abbiamo chiamato il periodo il reciproco del periodo l'abbiamo chiamato frequenza il periodo che si misura in secondi il reciproco del periodo l'abbiamo chiamato la frequenza sarebbero secondi alla meno 1 questa è la frequenza che si misura in hertz che sarebbero secondi alla meno 1 e rappresenta essenzialmente quanti giri al secondo vengono fatti dal corpo infine possiamo collegare la velocità la velocità angolare all'accelerazione si dimostra che l'accelerazione centripeta è ω quadro per r ma siccome ω è v fratto r si può anche scrivere come v quadro fratto r la seconda che io voglia esprimere una relazione tra l'accelerazione centripeta e la velocità angolare o tra l'accelerazione centripeta e la velocità istantanea quella che abbiamo detto si dice anche tangenziale uso una di queste due relazioni l'accelerazione è chiaramente in metri al secondo quadrato come tutte le accelerazioni che si rispetta va bene questo più o meno è tutto quello che abbiamo visto che in qualche modo ci serve per risolvere piccoli problemi l'unica cosa che forse posso dire è che di solito si parla di moto circolare uniforme anche per un moto che avviene sulla traiettoria che non è detto sia una circonferenza ma può essere per esempio un arco di circonferenza per esempio una macchina in curva se la macchina in curva mantiene una velocità tangenziale costante lungo la curva fa essenzialmente un moto circolare uniforme anche se non fa poi un intero cerchio si limita magari a solo un pezzo di circonferenza finché sta sulla curva a velocità costante abbiamo un moto circolare uniforme va bene chiaramente è possibile anche immaginare moti circolari non uniformi in cui c'è l'accelerazione centripeta mi tiene il corpo come dire bloccato sulla traiettoria ma poi la velocità magari cambia sia la v che la omega perché sono legata quindi corpi che magari percorrono delle circonferenze ma a velocità variabile questo tipo di studio è un po' più complesso e lo rimandiamo a un futuro abbastanza immediato l'unica cosa l'ultima cosa che ci tengo a sottolineare è che questa relazione mi dice che se voglio avere un corpo con velocità v su un'orbita r devo poterlo accelerare con un'accelerazione centripeta qui ho riportato chiaramente data da questa relazione va bene quindi con questo per esempio avevamo trovato l'accelerazione centripeta della terra nella sua orbita l'accelerazione centripeta della luna nella sua orbita avevamo fatto un po' di esercizi qualche esercizio lo farò eventualmente nel prossimo video bene direi che è tutto quindi abbiamo essenzialmente ricordato almeno a grandi linee quelli che sono i due moti piani che abbiamo studiato per ora quest'anno che sono il moto parabolico e il moto circolare uniforme direi che per stasera è tutto terza puntata penso domani sera con un po' di esercizi sia sulla cinematica dei moti rettilini sia sulla cinematica dei moti piani così possiamo ripeto mettere la parola conclusiva diciamo almeno per ora a questa parte ci dedicheremo alla dinamica ma è chiaro che la cinematica la utilizzeremo da qui in avanti per tutti i prossimi anni fino alla quinta perché gli oggetti che si muovono è piena al mondo e quindi è piena alla fisica e quindi tutte queste nozioni tutte queste conoscenze anche le competenze di saper gestire le equazioni coinvolte nella descrizione di questi moti sono tutte cose che utilizzeremo in tutta la fisica che verrà in particolare mi viene in mente per esempio l'anno prossimo quando faremo la gravitazione universale quando faremo poi l'etrostatica la magnetostatica in quarta e insomma in tante altre occasioni avremo bisogno di utilizzare la cinematica quindi mi raccomando cerchiamo di chiarirci subito le idee ho fatto questi video sto facendo questi video apposta per facilitare in qualche modo il vostro ripasso e se ci sono dubbi chiedete in qualsiasi momento per ora vi saluto e vi auguro una buona notte e vi auguro